Ciao sono Colkeji, oggi siamo nuovamente qui su Watch Dogs C'è un bel sole E come sempre ci mettiamo Oh, ho una cosa per te, devo vederti Vedermi? Cioè, tu e io? Devo cercare uno con la maschera? Niente maschera, segui il mio segnale Ok Quindi ora vuoi incontrarmi? Non voglio, ma dobbiamo farlo Ok, quindi, dov'è? Vediamo un po' La mappa ci dice che, oh mio Dio Qui Ok Quindi forse, proviamo un po' a far così prima Vediamo un po' se Se riusciamo a farlo Allora, prima di tutto, prendo una macchina in prestito, grazie Con la musichetta sotto Oh, scusa Vediamo se funge Questo mezzo di trasporto è un po' più veloce Lo proviamo subito Oh, mio Dio Quanto ne ho uccisi? Due feriti Ok Pensavo di più Finché nessuno chiama la polizia, va bene Ok Allora, qua c'è la stazione Qua sotto Quindi Ma perché ti devi buttare così? Che poi non ho neanche la vita, non so regolarmi Dovevano metterci qualcosa del genere Non lo so Allora, ok No, 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 aspetta, aspetta, aspetta Fermati, fermati Bravo Allora Aspetta, forse Dovrei fare così Poi E Trasporto rapido Che ci porti Qua Funziona Madu Sì, 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 sì Così meno Piccolo trucchetto per arrivare più in fretta Ed è notte però Prima era giorno E abbiamo da arrivare Qua Quindi Allora, vediamo un po' Proviamo a farcela piedi Ah, ok Perfetto Fermati Fermati Ok Andiamo Apri Grande Parti Grandissimo Poi lo fermeremo Dove ci serve Così vediamo anche la città Guardate che bella Qua c'è un po' di Gente che aspetta Bene, aspettiamo anche noi Quanti sono? 200 Così almeno nessuno Ci può rompere tanto le scatole Arriviamo là Tranquilli Abbiamo 90 70 100 Fermo 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 Bravo Apriamo anche questa Un mondo da scoprire La nuova missione Il mondo da scoprire Ok Fuh C'è un criminale rilevato Ma non lo faremo Perché adesso non abbiamo tempo Un mondo da scoprire Sempre dell'atto 1 Ho già ingaggiato Bad boy Bad boy Cosa? Bad boy 17 Eh ma che cazzo Eh ma Eh uu Au Guarda indietro Bad boy 17 Ah è questa qua Clara 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 Non ne hai 17 E ti sembra forse un bad boy? Mi sembra una testa calda Spero di non farti paura Perché mai dovresti farmi paura? Ora sei paranoico Ah si qualcuno incatina la mia vita Minaccia la mia famiglia E nello stesso momento un misterioso Bad boy vuole incontrarmi E non è un lui Ti sembra poco? Senti Devo potermi fidare Clara Io non lo farei se fossi in te Ma avevo una cosa da dirti Sai il messaggio che mi ha mandato? Io so dove trovarlo Beh non c'era motivo di incontrarsi di persona Clara Invece dovevamo incontrarci Volevi accesso ai sistemi? Che non ho letto? Cioè l'hai fatta? Sto per velarti un mondo Quindi devi essere gentile con me Sei bene Sei certo la prima a promettermelo Ok quindi potenzierà il nostro coso Fanno il lavoro sporco con questo E non sanno che io ho accesso L'hai rubato? E' una cosa grossa Non fare lo stupido Se fai cazzate la gente si fa male O peggio Sbaglio? Non ti fidi di me? Non ti fidi di me? Dammi la buona ragione per farlo Va bene Il tizio del messaggio come lo troviamo? Lavoriamo insieme Tu usa quello che ho mandato Io traccio il segnale Non sei come mi aspettavo Tu invece sei come pensavo Aiden C'è del tenero? C'è forse del tenero? Vediamo che dobbiamo fare Ok Intanto viene salvato Abbiamo Ma guardiamo un attimo Puntabilità Ok Ora puoi decidere tutte le abilità disponibili Ok Quindi Vediamo un po' cosa possiamo fare Nell'hacking possiamo Tieni premuto Q Per sovraccaricare gli impianti Degli edifici Creare esplosioni Poi abbiamo Batterie extra 2 Quindi una batteria in più Disturbare comunicazioni nemiche Poi abbiamo Trasformatori Poi abbiamo Le tubature a vapore Disabilitare l'elicottero Stricce spinate Ne abbiamo 11 Quindi quello che mi interessa E questo Accetta Vediamo cosa ci propongono gli altri Combattimento Aumenta la velocità Dei cambio d'armi Aspetta Cambio rapido Sì Va bene Cambio rapido Va bene Poi questo cos'è? Rispetto delle pistole Aumenta la cadenza Però questo qua forse Combattimento Non va Fai da te Fai da te Guida Ok questo va bene E questo cos'è? Riduce danni subito dalle collisioni Questo mi va bene Vediamo cosa abbiamo Probabile che ti scoppino Vabbè Se sapete voi Beh forse ripete la metto qua Nella batteria Metto 3 nella batteria E Questo qua del banco Comatte non mi interessa Però questo qua forse Mi interessa Trasformatori Va bene Accetta Va bene Abbiamo fatto un po' Benissimo Quindi Cosa dobbiamo fare? Ok Parlo con Bad Boy O con Clara Tagliamo corto Voilà Allora Dobbiamo scoprire Chi ti ha chiamato Ma In gamba Ha fatto Imbalzare segnalo Attraverso una torre Del CTO Servizio clienti Impiegati Dirigenti Cose del genere Ok Dobbiamo entrare nel sistema Solo così Poi scoprire la loro Posizione La sua posizione Ok Quindi dobbiamo entrare In quel punto là Mentre loro continuano a parlare Allora Dobbiamo entrare di qua Bene Quindi Raggiungi Entra nella zona di carico Sotterranea Ok Quindi Dobbiamo fare così Probabilmente Vediamo un po' Dove possiamo passare Abbiamo una telecamera Qua Una telecamera Qua Abbiamo Una telecamera Qua Bene Una Telecamera Qua Bene Quindi dove Dobbiamo andare La telecamera Qua Cosa è qua Abbiamo fatto un'esplosione Ma va bene Quindi Dovrei poter Riuscire Carrello Elevatore Ma non ci interessa Ma non ci interessa Raggiungi Quella telecamera Va bene Però Qua Qua Apro Quello Ok Premo Premo Quasi qua mi attaccano Vero Se Pure Pure Dobbiamo far così Dobbiamo Dobbiamo Via 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 Ok Bene Forse abbiamo Un'altra arma Ok Abbiamo questa qua Che fosse Su Questa Ok 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 Quindi Facciamo C C Sono qua vicini Aia Ok Due No Merda Ok Uh Ok E fe E così Uccidiamo Ok Dobbiamo un po' di armi Facciamo questa Dai Ok 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 Uh Ci abbiamo fatta Ok Possiamo anche Andarcene Bene 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 Sono entrato Che cosa ho davanti Nel progetto c'è un grande cortile interno E di sicuro altre guardie Scusate Allora Agli hack Che ti ho inviato il telefono Di subire l'equipaggiamento Tutte le guardie Che equipaggiamento Qualsiasi telefono auricolare Esplosivi Ormai c'è un microchip Dentro Ogni cosa Ok Ci proverò Scassone Gli uffici Cerca un laptop Non protetto Ok Trovato Bradley Coglain Ma dai Responsabile della sicurezza Ma certo Una volta che devi Far presto Rintraccia la camata Ed esci La sicurezza ci metterà poco Non preoccuparti Benissimo Quindi andiamo per avanti Forse è meglio Nasconderla per ora Ok Quindi potrà una guardia Con accesso Quindi vediamo se c'è qualche telecamera C'è quella telecamera là Vediamo Aspetto No Però forse sono troppo in vista Spero di no Allora Ok Hacker la guardia per il codice di accesso Quindi hackeriamo la guardia Hacker il punto di accesso Per violare il punto Quindi Vediamo un po' Probabilmente Da Questa telecamera Riusciamo a vedere Sopra Telecamera nascosta Ok Hacker 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 Benissimo Quindi abbiamo Quindi abbiamo E non ho niente Quindi questo qua Devo tenerlo giù così Ehm Devo tenerlo così E così E poi fare Q Perfetto Adesso qua Adesso qua ci sposta di qua Abbiamo così E così Bene Q Abbiamo quello là Q Così No Sbagliato Così Così Me l'ha bloccato così No No Perfetto Quindi ora posso fare così No Allora Allora Facendo così C'ho il ritorno Qua sopra Adesso devo Fare in modo Che me lo passi sotto Ok Fatto Hacker 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 Portatile Per caricare Un virus E dare accesso A Clara Qui dove è il portatile Questo qua Quindi Caricamento Virus Lo stiamo caricando Bene Benissimo Fuggi dal plaza Via Corri Fuggi 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 Oh mio dio Corri Allora Usa Jamcon Per fermare La scansione Per un breve periodo Fermare momentaneamente I nemici Che chiamano I fin forze I testimoni Che chiamano La polizia Costruisci Struisci Jamcon Dalla ruota Delle armi E premi G Per usarlo Dopo averlo selezionato Quindi Ah G Ok Quindi Fuggi Dalla scansione Ok Quindi io quando sono sopra la macchina Basta che faccio G Ok Però mi prendono 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 Dio Dai deve scendere giù Vai giù Vai giù Vai giù bravo 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 dovremmo essere a posto fuoco riuscita molto bene atto 1 mondo da scoprire missione completata ponte facciamo il tipo ponte volevo attivare il ponte vediamo che cosa ci dice ah ne abbiamo due ok quindi possiamo allora come va? hai trovato? mi son rotto le palle l'ho trovato ha chiamato da un appartamento nel loop finalmente fai attenzione Aiden come ha fatto a rimbalzare il segnale da come ha fatto e non intendo deluderlo sfida ctos mobile non ci andremo perché anche per questo episodio è tutto come sempre commentate iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo episodio ciao